Avete mai pensato di trasformare il vicino in opera d'arte? Potrà sembrarvi bizzarro, ma nel corso del tempo vari artisti hanno avuto questa idea ed hanno tradotto questo elemento in veri e propri pezzi d'autore, esposti nei più importanti musei del mondo. Da Cattelan a Duchamp, l'intento provocatorio in queste opere è piuttosto evidente ed hanno suscitato le reazioni più disparate all'interno della società, ma qualunque fosse l'intento dello scultore, espressione artistica oppure a provocazione, non cambia il successo che hanno ottenuto, perché se ne è parlato in passato, se ne parla ora e se ne parlerà. Così come è successo a Caltanissetta, al mercato della Stratafoglia, dove il commerciante nisseno Luigi Miragli ha pensato di installare un servizio igienico con una televisione sopra, che ha suscitato polemiche e curiosità nei social, ma che sta a simboleggiare un sinonimo di televisione spazzatura e invogliare le persone a non credere a tutto ciò che vedono, ha dichiarato l'autore.